La beta di Home La beta di Home La beta di Home La beta di Home Ovviamente, per i più fortunati possessori di una tastiera Bluetooth o del nuovo kit vocale Sony, queste operazioni risulteranno più rapide ed intuitive. Usciti dall'appartamento verrà caricata la piazza Home, centro della città virtuale. Spostandoci, noteremo che la visuale di gioco è libera e distinta in due prospettive differenti. Con la pressione del comando Start si accede al menu di navigazione. Scorrendo le varie voci, scopriamo che il giocatore potrà consultare il proprio profilo per verificare i trofei ottenuti e cambiare rapidamente i propri indumenti grazie alla funzione Armadio. Sempre da qui si potranno esplorare gli appartamenti tirati da altri utenti ed eventualmente scaricare quest'ultim sulla propria console per creare una lista delle location preferite. Infine, sono state implementate funzionalità molto innovative, come la possibilità di ricevere telefonate vocali dagli amici, dar vita ad un club di pochi iscritti con i quali confrontarsi quotidianamente ed inviare inviti per l'organizzazione di un party interattivo. Spostandoci nella città abbiamo apprezzato la multimedialità della stessa, con poster pubblicitari che cambiano, minigiochi come dama o scacchi da condividere con gli altri utenti e video apparire sui megaschermi, dove abbiamo deciso di intrattenere la folla dando via a balli demenziali. Un mix di aspetti stimolanti che sembrano presagire l'avvento di una nuova era dell'intrattenimento videoludico online. Possiamo raggiungere le varie aree presenti a piedi o utilizzando l'apposita mappa mondiale presente nel nostro PDA. Addentrandoci nelle attività presenti, dopo aver effettuato il download della location, abbiamo già da ora ottimi esempi della possibile evoluzione della piattaforma. Nel cinema, ad esempio, possiamo vedere già da ora diversi filmati, siamo curiosi di scoprire le future potenzialità dello stesso. Nella sala bowling, oltre al gioco da cui la medesima prende il nome, abbiamo tavoli da biliardo interattivi dove possiamo sfidare altri giocatori e cabinati arcade che ci daranno modo di giocare ad alcuni classici. Il centro commerciale propone invece al suo interno numerosi negozi, nei quali acquisteremo vestiti, elementi per l'abitazione o addirittura nuovi appartamenti, il tutto pagando con soldi reali, con cifre che vanno da qualche centesimo per i capi di vestiario e circa 5 euro per una casa al mare, a seconda del valore dell'oggetto acquistato. Il viaggio nell'universo di PlayStation Home si è rivelato un'esperienza davvero accattivante, che ha saputo catturare la nostra curiosità ad ogni passo effettuato nel mondo virtuale prodotto da Sony Online Entertainment. Le possibilità di interazione e le potenzialità di customizzazione del titolo si stanno stabilizzando a livelli elevati e l'implementazione di un comparto grafico che si conforma agli standard attuali del mercato ha reso la prova di questa beta una sessione di gioco divertente, nella quale siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Grazie per la visione!